Bentornati alla Notola di Minerva. Questa volta parliamo di un filosofo che quando andavamo all'università era tenuto di gran conto, un filosofo assolutamente del Novecento, che con questa sua opera girava tantissimo fra i dipartimenti di filosofia dell'università di Pisa. Ernst Kassirer, 1874-1945, filosofo tedesco, Philosophie der Symbolischen Formen, la filosofia delle forme simboliche, prima edizione, Berlino, 1923. Filosofo di formazione neocantiana, Kassirer indaga qui le differenti forme della cultura umana, indaga il linguaggio, il mito, la religione, l'arte e la scienza. Esse si fondano su un'attività di simboli, simbolica, che allontanandosi sempre più dall'immediatezza del dato naturale sensibile porta alla formazione di schemi concettuali autonomi. Connotato essenziale dell'uomo è la sua forza di creare simboli. L'uomo è più che un animale sociale, che poi animale non può essere perché non dotato di istinto, di istintualità, e l'uomo è un creatore, una macchina creatrice di simboli. Le forme simboliche prodotte sono le diverse modalità di spiegazione del mondo. Quindi l'uomo incasella, crea i simboli e poi attraverso questi spiega il mondo. La filosofia di Cassire si configura quindi non solo come critica della conoscenza, ecco perché è un neocantiano, ma come critica della civiltà, avendo come oggetto l'insieme delle produzioni spirituali dell'uomo, che ricordiamo essere arte, mito, scienza, religione e linguaggio. Proprio quelle produzioni spirituali che oggi sono in profonda crisi. Grazie. Grazie.